Oggi ci troviamo di fronte a un'azienda che detiene all'interno dell'outretto di Città Sant'Angelo un punto vendita che ha sempre prodotto utili, che è in costante progressione di fatturato e per i motivi per cui non si riesce a capire la chiusura. Presidio dei dipendenti del negozio Nike questa mattina al village di Città Sant'Angelo. I lavoratori manifestano contro la chiusura del punto vendita e il trasferimento del personale. È stato comunicato ai lavoratori tramite una lettera del 9 settembre la chiusura dell'attività commerciale e contestualmente alla comunicazione di chiusura è stato comunicato loro che sarebbero stati ricollocati in uno dei punti vendita distribuiti nel territorio nazionale, il cui punto vendita più vicino a Pescara è Valmontone a 200 km, per i fortunati che riusciranno a essere ricollocati su Valmontone. È evidente che da parte dei lavoratori non ci sono le condizioni per poter supportare un trasferimento a 200 km perché parliamo di lavoratori part time i cui contratti individuali oscillano tra le 18 e le 30 ore settimanali e il salario evidentemente non permette di poter supportare le spese. I manifestanti hanno indetto quattro giornate di sciopero ma l'azienda non intende fare marcia indietro. I dipendenti chiedono che sia aperto un tavolo all'ispettorato del lavoro con i rappresentanti della Nike e del centro commerciale. C'è stata concessa una fredda videoconferenza per cui gli interlocutori che ci siamo trovati di fronte non ci hanno spiegato le motivazioni, ci hanno immediatamente illustrato il fatto che loro non hanno potere decisionale, che l'azienda ormai è decisa e non sarebbero mai tornati indietro. Ci troviamo di fronte a un problema sia occupazionale dei lavoratori ma anche la nostra preoccupazione è che la chiusura della Nike, l'abbandono sul territorio di una multinazionale come la Nike porti un effetto domino anche all'interno dell'outlet di Città Sant'Angelo.